Sembrava solo una simpatica idea invece il progetto del Goldrec da posizionare a copertura dell'ipogeo di Piazza Garibaldi in fase avanzata, tanto da essere stato presentato e preventivato dal punto di vista economico al sindaco di Teramo. 180.000 euro il prezzo di questo imponente progetto, un'opera d'arte, un ibrido tra strutture architettoniche e un lampione fotovoltaico funzionale, un prototipo di paradosso architettonico che vuole provare a portare una nuova idea di turismo a Teramo. A lanciare l'iniziativa il noto fumettista Carmine Di Giandomenico, coadiuato dall'ingegnere Alfonso Di Felice. L'idea nasce comunque per dare una chiave di rottura, temporanea, nel senso che è una struttura che può essere smantellata senza creare problemi, perché l'ipogeo non verrà distrutto ma questa struttura si adagerà semplicemente sopra, anche perché comunque l'ipogeo ha dei danni strutturali che riguardano il tetto e quindi non sopporterebbe il peso di nessun altro tipo di stato, né di Garibaldi né di qualsiasi altro tipo di massa pesante al centro, in maniera da poter dare spazio eventualmente anche ad altri artisti che vogliono comunque dare estro alla propria creatività. Ho scelto Goldrake per due motivi principali, prima di tutto perché la piazza delle ore notturne è molto scura e quindi se i pedoni attraversano senza utilizzare i sottopassi c'è il rischio di un incidente e quindi ha un servizio principalmente funzionale alla cittadinanza, è fotovoltaico quindi autonomo e più l'ho scelto perché ha i colori della nostra città che sono il bianco e il rosso. Specifico una cosa molto importante, con il comune abbiamo ben chiaro che non si devono toccare soldi della cassa comunale né dei cittadini, quindi si dovrà trovare delle formule private o un altro tipo di formula per finanziarlo e vedere se ci si riesce. Abbiamo già studiato tutto, alcuni hanno anche contestato questo fatto, ci hanno consigliato di volare basso, però in realtà siamo consapevoli del fatto che i detrattori potrebbero attaccarci e attaccare l'opera usando diverse armi a disposizione, quindi abbiamo cercato di studiare tutto nei dettagli. La nostra versione del Goldrick, la definisco nostra, sarà una reinterpretazione del Goldrick classico, questo ci permetterà di sfruttare al massimo l'aspetto scenografico dell'illuminazione, in quanto la superficie verrà scolpita maggiormente rispetto alla versione classica del cartone animato, del fumetto, e riusciremo quindi ad avere dei tagli sulla superficie che garantiranno un maggiore appeal scenografico.